Insieme fino a mezzogiorno ci diverte molto, devo dire, in questi ultimi anni avere ospiti che escano dai canali tradizionali. È uno degli svolti positivi della follia di questo periodo, ci sono tante cose magari discutibili, ma è divertente anche vedere come a volte un ragazzo si possa inventare una professione e anche farla diventare una professione di successo. È il caso di questo ragazzo che è con noi questa mattina, che si chiama Nicolò, Nicolò Balini, un 26enne della bassa bergamasca. Sì, è 27enne. Ormai 26enne, guarda, non fa molta differenza visto dal nostro punto di vista. Lunghissimi capelli, molto hippie come lui, che viene vicino al microfono, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Human Safari, che ho letto da qualche parte, era una scritta che tu hai trovato su un giornale e te la sei auto, diciamo così, appiccicata. Sì, era tipo un nickname per un gioco online, non è partita da lì l'idea del canale, era una cosa totalmente a caso. Quindi Human Safari sarebbe il nome del tuo canale, ma ormai è diventato anche il tuo pseudonimo quasi. Boh, sì, cioè io l'ho sempre visto solo... Ma Human, senti scusa? Sì, mi chiamano Human. Quando mi fermano, tante volte sì. Senti, e tu fai viaggi sostanzialmente? Sì. Fai viaggi. Come mai, come ti è nata questa passione? Cioè tu da ragazzino con i tuoi genitori viaggiavi? Abbastanza, sì, ho fatto un po' di vacanze. Quali sono le vacanze che ti ricordi con i tuoi genitori? Belle o normali? Qualsiasi. Quelle normali andavo sempre a Riva del Sole con i miei anni in Toscana. Ok, quindi roba assolutamente normale. Poi ho fatto anche qualche viaggio molto bello. Con l'aereo tipo, andavate via? Sì, mi è capitato, mi ricordo il primo viaggio forse era in Marocco. Ah, bello. Credo o Marrakesh o Casablanca. Ma i tuoi erano un po' fricchettoni che hai i capelli così. No, assolutamente no. Ma no, per sapere. No, lui ce li ha così perché i suoi non lo erano. No, ma in realtà non mi hanno mai dato problemi per i capelli. Non l'hanno mai vista come una cosa troppo strana. Tu hai un canale YouTube nel quale racconti fondamentalmente i tuoi viaggi, poi hai anche ovviamente pagine su Instagram e quant'altro, però lo strumento di diffusione principale credo sia il canale su YouTube. Sì, è quello che mi piace di più, infatti adesso ne ho due, uno un po' figatto e uno dove condividerò. Come è cominciata questa avventura del canale, cioè della condivisione del viaggio insomma? In maniera totalmente casuale perché qualche anno fa quando ho iniziato io comunque si iniziava per caso, adesso magari uno sa cosa va incontro. Definisci qualche anno fa, 6-7 anni fa? 6-7 anni fa, credo nel 2011-2012. Ho iniziato condividendo dei video bruttissimi che avevo appena imparato a fare perché io ho sempre fatto fotografie ma non avevo mai imparato a fare video e stavo imparando così, però sì, erano proprio inguardabili, solo che con il tempo ho iniziato un po' ad appassionarmi e quindi semplicemente ho continuato questa strada. E la gente cosa ti chiede? Cioè quelli che ti seguono, ti scrivono anche immagino, che tipo di commento fanno? Ah, di solito i commenti sono sempre positivi. Però ti avranno anche in qualche modo eletto al loro guru, anche per via del lupo. No, magari si fideranno di te e ti chiedono consigli. Tante persone mi chiedono consigli per i viaggi oppure vedo banalmente anche guardando le foto dove mi taggano sui social che magari appena dopo che io vado in un post e ci faccio i video loro prenotano e ci vanno anche loro e seguono i miei consigli e mi dicono grazie. Quindi tu ormai praticamente sei, tra virgolette, costretto a viaggiare. Cioè nel senso che quella lì è la tua vita. Sì, ma me la sono scelta io. No, ma certamente. Viaggiare può voler dire tantissime cose. Noi che abitualmente stiamo in un posto 11 mesi all'anno, per noi il viaggio è l'eccezione. Per te è un po' la regola. Cioè settimana scorsa mi dicevi hai fatto Halloween in Transilvania. Che è una scelta molto coerente. Come in Hotel Transilvania il cartone. Però sei andato al castello di Dracula e chiudeva le cinque. E l'ho trovato chiuso, sì. Ma se può essere così spiegati. Eh oh, d'altronde. L'abbiamo trovato chiuso. Non mi ricordo se era tipo le cinque o le sei comunque c'aveva appena fatto buio. Era il momento perfetto. È il momento in cui doveva venire fuori questo. Avrei dovuto informarmi prima. E invece nei giorni prossimi fai una cosa completamente diversa. Sì, non l'avevo ancora detto. Comunque andiamo a fare la Via degli Dei. Da Bologna a Firenze a Piedi. È una sorta di piccolo cammino di Santiago. È in preparazione. Tra quanto lo fai questa roba? Il 13. 13 di novembre. Beh sì, se piove. Quando esce il libro peraltro. Esce il mio libro, sì. Il giorno a cui esce tu. Sì, forse avrei dovuto rimanere casa. Non vuoi sapere come va? Quanto ci metti? Quanto ci metti? Andiamo con una persona esperta che l'ha già fatto. E se seguiamo il suo ritmo, secondo me in cinque giorni ce la facciamo. Ah beh, ok. Sei un camminatore tu? Io cammino tanto quando sono in giro. Però non faccio trekking lunghi. Mi piace tanto andare in montagna. Camminare nelle mie valli. Che comunque sono molto belle. Ci sono un sacco di posti fighi. Quest'estate l'abbiamo fatta tutta praticamente in tenda in montagna. Per esempio Bologna a Firenze. Cioè vai a dormire in un hotel? Allora l'idea era quella di farla in tenda. Però ho visto che è la prima volta. Volevamo farla in bed and breakfast. O in stanze da saccopelisti. Esistono? Sì. A quanto pare l'ho appena scoperto. Ma in questo caso li individui già prima? Diciamo che partirò con una persona molto esperta. Che è anche lui un canale su YouTube dove parla di cammino. Quindi ok, mi fido. Da dove passa questa via? Fa praticamente tutta una serie di, credo, piccole montagne. che attraverso gli appennini mi ricordo giusto qualche paese. Però mi pare che le montagne hanno tipo i nomi Monte Apollo o cose del genere. Quindi si chiama Via degli Dei per quello. Però al di là del paesaggio voglio proprio mettermi alla prova. Fare un cammino di più giorni perché non l'ho mai fatto. C'è un messaggio che non capisco, però magari tu sì, perché nel frattempo ne stanno arrivando tanti di gente entusiasta che ti conosce. Un ragazzo dice, un minutino di esegesi sulla polenta taragna, glielo fate fare? Esegesi? Cioè di discorso, insomma di esaltità. Beh l'origine. Un minutino addirittura, non c'è molto di eso. Perché tu ne parli spesso della polenta taragna? No, è che mi piace tanto. La mangio ogni volta che posso perché è molto buona. Beh la polenta con dentro il branzi, la vado a mangiare sui montagni. Cos'è il branzi? È un formaggio che fanno a branzi. Ah vedi che sei esperto. Te sei montanaro d'onore va Alex ormai. Va bene, mettiamo una canzone per parliamo anche del libro che si chiama Istantanea intorno al mondo che uscirà appunto il 13 di novembre.